Pareggio a reti bianche nel derby tra Battipagliese e Faiano allo stadio Pastena. Dopo 7 minuti il tiro di senatore con palla che tocca la rete esterna termina a lato. Buona occasione al trentesimo per delle donne con il portiere bianco-verde bravo a smanacciare il pallone e mettere fuori tempo l'attaccante. A 5 da riposo lo Petrone su punizione non trova lo specchio della porta. Inizia la ripresa e dopo 4 minuti Odirna che ha festeggiato 100 presenze con le zebrette tenta il gol ma il suo tiro viene deviato in corner da Pepe. Al ventesimo Coiro stacca di testa su angolo di Rapolo, palla che esce di poco. Battipagliese e Bericolosa al ventisesimo con Giannatasio ma ancora Pepe devia il tiro. Bravo Spiguzza a parare i tiri di Rapolo nei 5 minuti finali. Poi dopo 3 di recupero il trivice fischio finale. Grazie a tutti.